Roma-Lazio 1-0 decide Mancini la Roma torna a vincere un derby dopo due anni effettivamente di astinenza da questo punto di vista l'ultimo era stato Roma-Lazio 3-0 credo l'unico vinto da Mourinho doppietta di Abram un gol di Pellegrini torna a segnare da quel derby addirittura non segnava sono due anni che non segnava la Roma ok sì perché sono tutti finiti 1-0 no forse c'era un 1-1 non mi ricordo sono due anni che la Roma non segnava forse c'è stato forse uno 0-0 anche credo c'è stato uno 0-0 all'andata 0-0 è stato un partito orripilante la prima cosa che voglio dire sul derby e poi entreremo nelle pieghe tattiche e tecniche della partita è l'ennesima maglia capolavoro della Roma bellissima anche quest'anno è impossibile è impossibile fare una maglia brutta e peraltro non mi sembrava nemmeno così bella quando l'hanno presentata e vederle in campo è proprio aveva un po' quelle vibes da Roma 2012-2013 a me piacciono molto i colletti questo colletto arancione bellissimo sì sì la maglia favolosa si può dire quello che volete sulla questione diciamo carattere sul livello del giocatore però Tante tante potrebbero dire Paredes è un gran bel signore un bel figliolo e su di lui veste benissimo questa maglia che c'aveva dentro la dei pantaloncini ho detto mamma mia la voglio sta maglietta di Paredes per forza tocca comprarla poi diciamo sì però sembrava che da un momento all'altro potessero entrare Bradley Marchigno sì è vero Marchignos pure anche Marchignos esatto vabbè c'è veramente io sono d'accordo con il signor Galdor comunque non è neanche bello gli togliamo pure questa qualità è un fenomeno no vabbè ora fenomeno se dobbiamo arrivare se dobbiamo arrivare a sottolineare questo significa che siamo in grande difficoltà no no vabbè se dobbiamo parlare di questo vuol dire che a livello calcistico un po' stiamo deficitando io a livello calcistico non ho mai messo in discussione se voi che l'avete messo in discussione il campo sta parlando non c'è alcun problema su Paredes non vi preoccupate e dico se volete togliergli pure questa qualità che è oggettiva detto questo parlando un po' di campo perché questo momento omosessualità comunque ci è piaciuto ma andiamo avanti passerei a l'analisi della partita e fare partire a questo punto il buon Gioacchino dicci come l'hai vista è stata una partita molto tattica tra virgolette che solitamente è il termine che si utilizza quando è stata una partita brutta però in realtà comunque è stato un buon ritmo rispetto all'andata che finita 0-0 al di là del gol di Mancini rispetto alla Coppa Italia rispetto a tanti precedenti è stata una partita sicuramente molto intensa molto intensa poi bisogna dire che comunque per la Lazio è chiaro che questo è un momento delicato perché il passaggio da Sarri a Tudor è un cambio comporta un cambio di registro radicale dal punto di vista tattico perché veramente si passa da un estremo ad un altro dal sur alla luna e quindi anche per la squadra vedendo anche gli errori per esempio che ha fatto in Coppa Italia sono quelli tipici ecco di un parco giocatori che mentalmente è ancora un po' in una sorta di fase di terra di mezzo perché passare dall'avere come riferimento costante la palla all'avere come riferimento costante l'uomo c'è bisogno di tanto lavoro c'è bisogno di tanto tempo per poter assimilare i concetti per poter entrarci dentro al cento per cento quindi un lavoro che hai fatto per tre anni peraltro quindi un lavoro che hai fatto per tre anni quindi sicuramente nell'immediato e questa è una conferma perché tutti un po' ci aspettavamo una Lazio sicuramente diversa dal punto di vista dell'atteggiamento dal punto di vista dello spirito e Tudor comunque ha riacceso un po' l'anima di questa squadra che sembrava essersi persa sembrava essersi una squadra che comunque si era afflosciata nell'ultimo periodo con Sarri onestamente c'è una squadra che non produceva sul campo granché e che sembrava quasi che stesse giocando perché era obbligata perché era tenuta a fare invece con Tudor questo già diciamo lo switch ecco mentale c'è sicuramente stato poi è chiaro che il Lazio di ieri era senza Zaccani infortunato era senza Luis Alberto e credo non fosse al meglio poi ha giocato l'ultimo spessione di gara hanno detto che non era bene io continuo a pensare qui confermo quanto detto in diciamo dal momento in cui arrivato Tudor Luis Alberto ha sensazione penso possa essere uno di quei giocatori che magari potrebbe andare un po' in rotta di collisione con Tudor potrebbe essere l'estate è buona l'estate è buona per la partenza mi sa visto che ogni estate decide c'è la cessione a Siviglia la classica cessione a Siviglia che poi alla fine rimane sia lui che Felipe Anderson che comunque Felipe Anderson lo sappiamo è già in uscita perché in scadenza non lo so secondo me credo che credo che andrà via però vederlo a tutta fascia mi sembra un po' una forzatura ed è un giocatore anche non lo so come attitudine che potrebbe potrebbe sì diciamo non entrare però non mi è dispiaciuto in queste critiche anche caratterialmente dico io parlo diciamo immaginando un po' il futuro diciamo il lungo termine non tanto il breve medio termine poi diciamo sono pronto ad essere smentito ci mancherebbe però diciamo a sensazione ecco Luis Alberto Felipe Anderson e poi è vero che Romagnoli anche non sta facendo malissimo in queste uscite però anche lui comunque ce lo ricordiamo al Milan quanta fatica faceva diciamo ecco è stato uno dei giocatori che invece con Sarri diciamo ha beneficiato e con un po' il sistema di Sarri potrebbe potrebbe anche lui ritrovare un po' di difficoltà anche perché poi a livello anagrafico non è un giovincello quindi dover stare sempre a contatto con l'uomo per 90 minuti è una cosa che potrebbe arrivare a allogurarlo come dire anche perché non ha più gli anni per poterlo fare secondo me con costanza e con efficienza ma detto questo ecco la Lazio senza Zaccani senza Luis Alberto è una squadra che si diciamo un po' da battaglia perché tecnicamente è una squadra che comunque aveva poche poche frecce come dire certo Felipe Anderson che però nel momento in cui lo utilizzi è tutta fascia lo utilizzi con compiti un po' diversi i Sax ne ha fatto un po' fatica bisogna dire però è un giocatore che a mi piace è un giocatore che secondo me può lavorare in un certo modo perché può giocare a ridossere la punta però ieri è andato molto in difficoltà proprio a livello fisico cioè ha ricevuto un sacco di volte spalle alla porta per combinare insomma l'interno dell'area ed è sempre stato sovrastato non è mai riuscito a vincere i duelli però poi con Gendusi e con con Kamada che è un altro che invece io mi aspetto che possa rifiorire mi auguro che possa rifiorire anche se pure anche lui ieri male male ma Kamada sembra veramente che debba debba ricostruire da zero la fiducia che ha nei propri mezzi che sembra un giocatore che si è completamente diciamo quasi prosciugato come dice il linguaggio del corpo di ieri mi dava l'idea di un giocatore su cui veramente Tudor dovrà fare un lavoro enorme al punto di vista di tale mentale perché per me rimane un gran giocatore cioè le stagioni che ha fatto all'Aintracht e anche il modo io direi anche tatticamente secondo me si sposa molto bene si sposerebbe molto bene con il sistema di Tudor un modo di giocare di Tudor però sì anche lui ieri non benissimo poi è vero che ha segnato però fino a quel momento anche il linguaggio del corpo non era molto confortante e la Roma diciamo che al completo quindi con una Roma che con De Rossi schiera contemporaneamente Pellegrini Di Bala anche Sharaoui e chiaramente Lukaku è una squadra che tecnicamente la partita la deve condurre la deve anche indirizzare così è stato cioè diciamo che non è successo granché dal punto di vista delle occasioni come dicevamo prima è stato un derby comunque molto più intenso quindi non non noioso quello sì però la Roma ha ampiamente meritato la vittoria e poi è chiaro che penso all'occasione che ha avuto il Sharaoui penso a un altro paio di situazioni la partita non la chiudi è normale che poi soprattutto nel secondo tempo la Lazio chiaramente si diciamo arriva a crearsi un po' le circostanze per poterla pareggiare la partita e il secondo tempo devo dire che ecco c'è stata una fase quella centrale in cui la squadra di Tudor ha fatto meglio la Roma la Roma si è abbassata molto forse anche un po' per rifiatare blocco basso blocco basso e la Lazio comunque è chiaro nel momento in cui diciamo sei portato a a far venire diciamo ecco a far a far entrare il nemico nella nella stanza è normale che poi aumenti il rischio di poter di poter buttare una partita che meritava di vincere per carità grandissime occasioni non ne hanno non ne hanno non ne hanno create però però hanno comunque si si sono creati i presupposti perché potesse succedere qualsiasi cosa penso a un calcio piazzato penso a una deviazione di Godinamada era arrivato più o meno sempre per una situazione un pochino così no? e poi ha cresciuto Kendozi rispetto al primo tempo si è visto molto di più ha fatto qualche percursione in più la Lazio ha attaccato più per via centrali e un giocatore come il francese ci va a nozze con questo genere di situazioni infatti quando ha aumentato il ritmo lui ha aumentato il ritmo la Lazio senza dico fare grandi di azioni non è che abbia creato chissà quali pericoli però rispetto al primo tempo è sembrata più viva secondo me la Lazio si e tra l'altro ecco sono i Tudor poi partiamo magari più nello specifico della Roma che alla fine ha vinto però volendo parlare di Tudor secondo me ieri è stato molto coraggioso perché tu comunque sia fai partire titolare nel derby giustamente per motivi anche di carattere di storia eccetera immobile ma quando vedi che non ti può dare niente nonostante sia il capitano sia il giocatore più rappresentativo della Lazio non ti fai problema a metterlo fuori poi certo quello che lo va a sostituire è Castellanos che non è che dice ho tolto il mobile per mettere un fenomeno però il fatto che lui abbia la personalità di poter fare una cosa del genere in un derby stessa cosa lui ha detto che aveva degli acciacchi comunque sia con Romagnoli che è uno che sente molto la partita lui è un giocatore che inizialmente sta partendo dalla panchina in questo caso anche qua si dice per motivi di acciacchi però ad esempio anche contro la Juve è partito dalla panchina comunque sia mi sembra un allenatore che non si fa mettere i piedi in testa poi ieri ha perso la partita però secondo me lui sta dando molto del suo all'ambiente Lazio che è vero ha perso due partite su tre però mi è sembrata molto molto più viva rispetto ai mesi precedenti agli ultimi mesi della gestione Sarri proprio per come è messa in campo per come va a approcciare le partite il discorso è che non ha avuto proprio il tempo materiale per lavorare sulla squadra soprattutto in virtù di quello che diceva Gioacchino cioè del cambio radicale che la Lazio dovrà vivere con il passaggio da Sarri a Tudor secondo me comunque rimane la fiducia cioè rimango fiducioso come voi su su quello che può essere il suo il suo lavoro alla Lazio su quello che sarà nell'immediato o nel futuro nella prossima stagione il suo percorso in bianco celeste e a proposito di questo quale sono voi il giocatore che può migliorare di più sotto tutto l'avevo mostrato prima qual è il giocatore che effettivamente visto che abbiamo parlato di chi potrebbe faticare di più quindi Sanberto Romagnoli eccetera chi invece potrebbe ottenere un io faccio io faccio sempre il nome di Kamada perché per me Gendusi è centratissimo però Gendusi comunque è uno dei pochi che con Sarri già faceva benissimo già faceva benissimo quindi diciamo che non è corretto associare il discorso del concetto di miglioramento al francese mentre Kamada onestamente è un giocatore che che avrebbe tutte le carte in regola per potersi rivitalizzare perché lo vedo incastrarsi molto bene poi ripeto molto dipenderà da se riuscirà a livello mentale poi a ritrovare quella fiducia che sembra aver smarrito completamente però se c'è un allenatore che mentalmente può riprenderti quello è proprio Dodo ieri ha fatto male però comunque nella prima uscita con la Juve giocando in mezzo al campo e non dietro la punta non si è male faceva un'ottima partita per cui vediamo vediamo un po' mi sembra che è un allenatore molto bravo a caricare i giocatori comunque quantomeno a farli scendere in campo con la giusta tempra non so se avete visto il video penso di sì quello famoso su con Castellanos quando vado a lui e dice secondo me tu vai a giocare contro il più forte difensore del mondo non c'è niente di più bello queste sono cose che magari dall'esterno non si capiscono però per un giocatore avere un allenatore che prima di una partita importante riesce a motivarti indipendentemente poi da quello che è il risultato finale conta a lungo andare perché il fatto che tu dico una cosa del genere io mi riferisco a quel caso specifico responsabilizza molto un giocatore come Castellanos che poi tra l'altro non fece nemmeno una buona partita però comunque sia dal punto di vista mentale quantomeno lo fai a partire sotto un altro punto di vista non partirà assegnato anche se vai a giocare contro una squadra più forte io sarei curioso di vedere perché è un servizio questo che fa Dazon non so se per tutte le partite però per le partite più importanti per alcune partite lo fa sarei curioso di vederlo per il derby secondo me ci sono tante cose interessanti che ci siamo persi da una parte e dall'altra soprattutto dall'altra e poi secondo me adesso è giusto anche affrontare l'argomento principale queste erano le cose che invece durante il periodo Covid con i stati voti non ci perdevamo comunque diciamo in un buon percentile esatto quindi secondo me questa rubrica che concordo è molto bella nasce parzialmente anche un po' da quello che abbiamo vissuto durante quel periodo perché io ricordo che con i stati voti alla fine è chiaro che non non riuscivi mai a raccogliere il 100% di quello che accadeva però sicuramente ti realizzavi che diverse diverse di questi scambi comunque molto interessanti chiaramente poi con 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 i tifosi chiaramente con era diciamo inevitabile che te li perdessi sì sì e anche se insomma poi chiaramente siamo contenti che possa venirtene fuori servizi del genere anche col pubblico non solo per il discorso Covid ma anche perché poi lo spettacolo che ti regala il pubblico ieri comunque sono delle grandi coreografie come sempre il derby di Roma anche uno molto bello su per di Bartolomei per cui tutto molto figo e anche se ora ci arriviamo su questo scusa e passiamo alla Roma la mia coreografia preferita dei derby rimane oddio non è che non le conosca tutte nella storia dei derby però degli ultimi anni quella la della curva della Roma con tutti i capitani eh Totti De Rossi Roma capitane bandiere quella è bellissima però vabbè al lato Roma dici al lato Roma e passando proprio alla Roma a proposito di El Sharawi diceva Spicolo secondo me questa è la migliore stagione della sua carriera che gli ho visto fare non so se è la migliore in assoluto dal punto di vista generale o comunque diciamo il rendimento immagino lo intenda soprattutto sotto De Rossi eh però mh mi sembra comunque nonostante ieri sia stata una partita complessa anche per lui perché eh sulle fasce diciamo è stato tutto molto bloccato per il discorso che facevamo anche della partita tattica eh sia in fase difensiva che in fase offensiva lui comunque qualcosa ha provato a creare a sganciarsi entrare dentro il campo ha avuto quell'occasione che hai detto tu eh e mi sembra molto in realtà lo era già con Mourinho non mi è mai sembrato uno che eh diciamo non credesse al cento per cento in quello che l'allenatore gli faceva fare quindi a prescindere dal eh dagli ordini tattici mi sembra uno sempre molto sul pezzo però con De Rossi sta riacquisendo quella verba anche più offensiva eh oltre che di protagonismo perché con Mourinho comunque giocava soprattutto dalla panchina entrava dalla panchina perché faceva molto fatica giocando soprattutto a tutta fascia in quel modo lì ehm a giocare diciamo nel titolare quando un po' giocava titolare faticava molto con De Rossi si sta riscoprendo nel Sharawi diverso poi è chiaro che è difficile perché il primissimo è il Sharawi del Milan ad esempio comunque fece delle grandi annate mi sa anche da doppia cifra se non erro per cui l'annata famosa il 12-13 quando fece 17 gol una cosa del genere per cui però negli ultimi anni sicuramente si lo vedo molto bene anche in ottica nazionale attenzione io gli ci pensavo è un giocatore che viene nominato poco Zaccagni non è sicuro del posto comunque per quello che sta facendo quest'anno a sinistra non è che ci sia tutta questa concorrenza per cui il Sharawi non è da escludere in ottica nazionale per l'europeo per come sta giocando assolutamente perché comunque io vedo molti giocatori che sono comunque liberi perché in questo sistema qui si sentono anche un po' meno ingabbiati come dire abbiamo parlato di Pellegrini comunque Sharawi ieri ha fatto anche un paio di recuperi notevoli in fase di non possesso proprio è un giocatore che diciamo con questo vestito nuovo tattico che ha la Roma anche diciamo di atteggiamento è un giocatore che scende in campo sapendo che il suo compito principale è quello di puntare l'uomo è quello di attaccare insomma è quello di entra con una forma mentis molto diversa rispetto a quella precedente che poi lo porta comunque ad avere dei numeri difensivi importanti io se non vedo tra l'altro proprio quelli di Pellegrini sono addirittura migliorati sono rispetto a quelli diciamo dell'ultimo anno di Murigno eppure col Murigno il Pellegrini cioè il compito principale di Pellegrini era quello diciamo di preoccuparsi ecco della fase di non possesso piuttosto che di ora di possesso quindi alla fine come sempre la testa fa tutto anche se diciamo ecco tu scendi in campo principalmente per attaccare che per difendere però poi dopo alla fine sei portato comunque poi a giocare per la squadra e a diciamo ecco poi a dare a metterti a disposizione anche quando la palla ce l'hanno gli altri l'unico che come dice Antonio l'unico che sembra di aver risentito negativo dall'arrivo di De Rossi è Lukaku non è un caso cioè perché la Roma di Murigno per come approcciava le partite cioè una squadra molto chiusa molto compatta che poi provava a uscire fuori con il lancio lungo a cercare il punto di riferimento offensivo l'attaccante grosso in questo caso come Lukaku che con il contropiede che per la forza fisica eccetera poi doveva scardinare la difesa avversaria in quelle poche occasioni è chiaro che Lukaku avesse un ruolo più centrale in quel sistema di gioco la Roma di De Rossi è una squadra che gioca a calcio è una squadra che coinvolge tanti interpreti in più e un giocatore come Lukaku secondo me se non è centrale nel progetto della squadra cioè se non è il fulcro di gioco offensivo perde tanto cioè perché Lukaku nell'Inter di Conte dove alla fine si dava sempre palla a lui era centrale e già nell'Inter di Inzaghi non era più così centrale e e le Simone gli preferiva sempre Dzeko anche in finale di Champions per me non è un caso è un'analisi che ci sta e che in parte condivido anche se ieri ho letto delle critiche eccessive su Lukaku non ha fatto una partita così negativa come è stata descritta secondo me soprattutto il secondo tempo ha lavorato bene col pallone ha giocato molto bene di sponda in molte occasioni e ha fatto una partita da 6-0 così se vogliamo dargli l'insufficienza però non ha fatto una partitaccia la classica partita di Lukaku infatti secondo me è una partita una partita un po' anonima però sì ah no è una partita ordinaria diciamo ordinaria sì è un tempo un po' faticato secondo senza aver Romagnoli quando è uscito appunto l'ex Milan l'ho visto un po' meglio però niente di straordinario ma niente di disastroso ecco però comunque sì di base cioè al di là della partita di ieri sicuramente è un giocatore che sta faticando ecco che che ecco sta sta avendo un po' di difficoltà quello sì sì poi anche mentalmente insomma diciamo che Lukaku mentalmente qualche segnale negativo deve essere coccolato dal primo all'ultimo momento e poi comunque se sente coccolato fa bene altrimenti appena viene messo in dubbio un minimo ma non perché gli venga detto che non è bravo ma perché magari appunto la squadra non gira più unicamente su due eccetera viene un po' un po' meno però questo ce lo racconti un po' la carriera di Lukaku è proprio un suo modo di intendere la squadra e allora vi faccio una provocazione vai ecco visto che ieri cioè ieri visto che stiamo dicendo Romelu Lukaku sta facendo fatica eccetera eccetera e visto che ieri è tornato in campo Abram queste due cose possono essere sommate e Abram potrà avere più spazio non dico più spazio di Lukaku perché dovrà tornare in forma ci vorrà tempo bla 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 però potrà togliergli dello spazio da questo punto di vista perché potrà essere più utile ho sette partite dalla fine del campionato ieri era la trentinesia più due sicure in coppa secondo me sul finire del campionato sì cioè qualche un po' di spazio in più lo troverà poi chiaramente non giocava dal giugno quindi ci vuole un po' di rodaggio potrebbero poi giocare insieme secondo me sì sì però non lo so se è quello che vorrà fare De Rossi secondo me invece ieri l'ha fatto però magari ieri la Roma poi aveva bisogno anche di più fisicità per gestire determinati palloni perché comunque il risultato era sempre in bilico e ci sta a mettere il giocatore più fisico che appunto va a raccogliere il pallone al centro campo riesce un po' a gestirlo meglio e ok non so se per il resto della stagione ci penserà a questa convivenza a me è più fattibile un'alternanza rispetto alla convivenza poi secondo me lo vedremo però molto spesso a partite in corso non credo dall'inizio anche perché Abram per il modo in cui dovrà essere gestito non so quando effettivamente potrà partire dal primo minuto diciamo che però allora ve la da quando è arrivato aspetta un secondo vai tu vai tu da quando è arrivato mi sembra che abbia sempre avuto in grande considerazione Abram perché ne ha parlato tante volte di Abram forse è stato uno dei primissimi che è andato a salutare appena è arrivato a Roma ci fu anche quella gag lì dell'italiano secondo me guarda non ti dico tanto per questa stagione ma nell'ottica di un De Rossi che rimane a Roma perché secondo me non rinnovarlo sarebbe una follia a questo punto io qualche cioè voglio fare una battuta infelice però diciamo se fossi in uno dei giocatori squalificati della nazionale un euro sulla titolarità di Abram per la prossima stagione ce lo butterei anche perché per me la Roma non riscatterà Lukaku per me Lukaku tornerà al Chelsea e dal Chelsea andrà in Arabia sì secondo me sì in Arabia Saudita è quello che volevo chiedere me l'avete anticipato per cui ah quello ci succede dove andrà Lukaku la domanda era allora l'anno prossimo ah qualche vabbè in realtà avete risposto avete risparmiato anche il tempo della domanda molto bene e sono d'accordo perché l'anno prossimo io non vedo Lukaku la Roma secondo me la Roma potrà ripartire da Abram perché è un giocatore che piace a De Rossi vabbè in teoria De Rossi ha il contratto di scadenza però mi sembrerebbe proprio una follia a prescindere da come finirà il campionato che è mancato la società la società non si aspettava minimamente che facesse così vabbè dopo quest'estate ci si può aspettare di tutto da Roma non mi sorprenderei diciamo che non mi sorprenderei comunque ecco la cosa più bella secondo me da esterno quindi non da tifoso della Roma è vedere una squadra che che finalmente sì vabbè su questo non rispondo è vedere finalmente una squadra che che se la gioca una squadra che è messa in campo in un certo modo che cerca di sfruttare al massimo quelle che sono le sue doti dal punto di vista tecnico per me la Roma con la guida tecnica precedente la partita di ieri non solo non l'avrebbe vinta ma non l'avrebbe approcciata nella maniera giusta è vero che uno dovrebbe nell'andare a valutare De Rossi dovrebbe valutare De Rossi e basta perché comunque è De Rossi che sta facendo bene però nell'ottica in cui De Rossi arriva per sostituire un altro allenatore a metà della stagione con dei trascorsi anche nei derby soprattutto quelli di quest'anno per me il confronto va fatto io lo ricordo abbiamo parlato tanto l'ultimo derby di Murigno fu un qualcosa di abominevole secondo me addirittura più nel post partita che durante la partita invece con De Rossi mi sembra proprio io l'ho detto ieri una ventata d'aria fresca perché per come si approccia in campo per come si approccia alle telecamere per come si approccia con i giocatori è proprio bello da vedere perché la Roma finalmente in campo scende in campo per giocarsela ma può non vincere ma in realtà spesso e volentieri vince perché lo stanno dicendo i risultati giocando secondo me un ottimo calcio e soprattutto è un allenatore che non si tira indietro nemmeno di fronte alle telecamere quando sbaglia dice ho sbagliato quando fa bene dice ho fatto bene però non lo fa mai con l'arroganza con la presunzione che tra mille virgolette potrebbe addirittura avere essendo lui Daniele De Rossi essendo lui la Roma in persona invece lui all'interno dell'ambiente Roma non parte come superiore agli altri perché De Rossi ma parte come l'impiegato che sta facendo bene il suo lavoro e secondo me questo è il grande prece di Daniele De Rossi che finalmente ripeto sta facendo vedere il calcio a Roma a sponda giallorossa che secondo me da maggio 2022 non si vedeva e questo per me è fattuale ragazzi no io ti dico una cosa su De Rossi a livello della comunicazione visto che ne hai parlato e poi entriamo sul discorso Murini eccetera è interessantissimo perché in un mondo di risposte sempre le stesse paraculate mai prendersi responsabilità eccetera non solo fa quello ma poi parla tantissimo di calcio che sembra una cosa scontata ma non lo è cioè noi il fatto è che regala sempre spunti interessanti è interessantissimo sempre ne parlavo ne parlavo qualche live precedente me comunque impressiona molto il rapporto cioè comunque l'equilibrio che lui riesce a trovare tra l'intelligenza emotiva e l'intelligenza poi diciamo cognitiva razionale chiamatela come volete cioè è un allenatore che comunque è sempre lucido quando c'è da essere lucido ed è contemporaneamente un tecnico poi che ha dimostrato di avere un'empatia di avere una sensibilità cioè di di sapere anche come relazionarsi con 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 i giocatori che è una cosa che è un aspetto fondamentale questo al giorno d'oggi che spesso si sottovaluta e e che poi si cioè De Rossi lo sappiamo era un allenatore già in campo però poi dopo tra il di il fare c'è di mezzo e mare ed è chiaramente poi bisogna dimostrarlo con i fatti De Rossi sta dimostrando di essere un allenatore in campo e fuori dal campo a livello comunicativo a livello gestionale cioè sembra veramente avere il physical role no? come piace come dicono quelli bravi e quindi io penso che tra l'altro stia facendo molto 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 meglio rispetto a quelle che erano le aspettative anche di Friedkin cioè io penso che Friedkin l'abbiano l'abbiano preso in maniera molto chirurgica per salvare per salvare la stagione per gestire la piazza che altrimenti che altrimenti era l'unico nome che potevano prendere quindi hanno avuto la fortuna e poi potessero incastrare le cose le dinamiche quindi io penso che loro nel momento in cui hanno scelto De Rossi non partivano con l'idea di volerlo confermare partivano già anche De Rossi secondo me sapeva di venire a Roma di giocarsi la chance per poter avere invece qualche offerta secondo me il prossimo anno e ora sarà molto complicato comunque sia per come sta andando poi è chiaro bisogna vedere come terminerà la stagione però per come le cose stanno andando sarà complicatissimo gestire cioè diciamo non confermarlo ecco di non dargli la chance e sarà difficile anche per lui secondo me ecco nel caso in cui dovesse rimanere poi è chiaro che dalla prossima stagione si riazzera tutto perché sappiamo come funziona quindi anche lui dovrà essere ancora più bravo ad andare oltre questo impatto travolgente che sicuramente per ora sta facendo chiaramente venire fuori solo quelli che sono le sue enormi qualità di cui abbiamo già parlato e che abbiamo già sottolineato infatti la cosa fondamentale è che De Rossi arriva a Roma per salvare la stagione per portarla a termine De Rossi ha migliorato esponenzialmente la stagione della Roma a livello di proposta di gioco a livello di risultati che è la cosa più importante a livello di percezione che c'ha l'ambiente della squadra e a livello di singoli ora a parte il caso Lukaku che abbiamo già sviscerato prima non c'è un singolo giocatore della Roma che non si è migliorato ma io lo vedo anche proprio nella fiducia che hanno i giocatori è facile parlare di Pellegrini che forse è il caso più evidente nel cambio delle due gestioni ora a me non piace la parete si è migliorato sotto De Rossi ma Mancini stesso secondo me ha anche più libertà palla al piedi se lì che crea un altro giocatore un altro giocatore ma secondo me guarda un giocatore che ha migliorato che ha migliorato tanto e che sembra avere tanta fiducia in più eppure Diego Llorente che ogni tanto prende palla al piede è un giocatore che riesce a smistare più il gioco molto più presente nell'area di regola avversaria ha fatto una grande partita anche Llorente arriva e mostra di avere grande personalità non si fa problemi a panchinare Rui Patrisio che da inizio stagione ne stava combinando uno ogni partita per mettere in campo Svilar ragazzi ieri parliamoci chiaro con Mourinho il derby l'avrebbe giocato Rui Patrisio cioè Svilar non avrebbe fatto un minuto nel corso della stagione secondo me queste sono tutte cose che vanno messe sul piatto per giudicare in positivo una parte e in negativo l'altra perché la stagione è divisa in due parti con due allenatori diversi e quando noi andiamo a analizzare i pregi di De Rossi i meriti di De Rossi i meriti della Roma allora lì dobbiamo anche andare a evidenziare quelli che sono i demeriti della gestione precedente perché allora dobbiamo dire ma allora questa squadra non era così scarsa allora questi giocatori non erano così scarsi come ci veniva detto ad ogni conferenza stampa secondo me queste cose vanno considerate poi chiaramente è De Rossi che ci sta mettendo del suo perché queste cose non emergono non possono emergere con qualsiasi guida tecnica a dimostrazione del fatto che l'allenatore non conta il 20% non conta il 10% l'allenatore conta tanto tantissimi in una squadra ma questo ci dimostra anche che effettivamente la guida precedente aveva tanti limiti tantissimi limiti e che ormai per me non poteva più stare non poteva più continuare sulla panchina del Roma vabbè sei arrivati a un punto di non ritorno quello era evidente sì allora il discorso è questo e ci entriamo visto che comunque avevo sollevato io sia nel gruppo che in live questa cosa qui del continuo paragone con Mourinho sul derby ha senso secondo me fare cioè automatico che venga il paragone perché Mourinho appunto non vinceva nel derby da due anni non segnava da due anni quindi è inevitabile secondo me sarà inevitabile anche in Europa in positivo e in negativo che sia perché in questi due anni e qui ci ricolleghiamo al motivo per il quale poi spesso ho difeso Mourinho è stato fatto passare arrivare in finale di Coppa UEFA di Europa League come se fosse una cosa da tutti per cui vediamo il discorso è che io non solo sono d'accordo al 100% con te ma sulla valutazione di De Rossi ma sono al 100% d'accordo con te anche sulla valutazione della prima parte di stagione di Mourinho che è stata evidentemente negativa e che è stata evidenziata ancora di più quanto sia stata negativa da quanto bene si sta facendo adesso De Rossi il punto secondo me è che se ogni partita invece di dire bravo De Rossi si dice Mourinho merda si fa fatica a a valutare a far diciamo a a dare diciamo a dare i reali meriti di quanto stia facendo bene De Rossi quello era il discorso poi ci sta che in una analisi generica di tutta la stagione si valuti o in uno specifico di un derby perché la Roma non vinceva in derby da due anni si dica anche quanto male si fosse fosse quanto male avesse fatto la gestione precedente sul discorso Mourinho io sul discorso del non essere più di non poter più stare a questi livelli non so se sono d'accordo al 100% sicuramente se fossi una società non non sceglierei Mourinho per ripartire se dipendesse da me non è un tipo di allenatore che mi piace per il calcio di adesso diciamo però l'unica cosa per il quale poi spesso l'ho difeso è la valutazione secondo me eccessivamente negativa su quelli che sono stati i suoi primi due anni dei suoi primi due stagioni perché per me sono state due ottime stagioni perché se alla prima vinci la conference e alla seconda arrivi in finale è vero che in campionato vai in Europa League e ti qualifichi per l'Europa League e non per la Champions posto che quest'anno la Roma non so se arriverà tra le prime quattro che era l'obiettivo cioè questa è la migliore Roma come rosa delle ultime tre stagioni e nelle prime due stagioni non è mai arrivata quarta e neanche quest'anno ci riuscirà per cui se andrà in Champions sarà perché si è sbloccato il quinto posto quindi sono dinamiche anche diverse secondo me detto questo comunque a parte questo secondo me sono state due stagioni positive dal punto di vista dei risultati solo ed esclusivamente quello sempre detto poi tutti i limiti del caso li sono sempre riconosciuti secondo me come sempre è il stesso discorso di Pioli uguale secondo me come sempre quando qualcuno fa degli errori quando qualcuno sbaglia quando si fanno le valutazioni su un percorso negativo o degli errori dei limiti di un allenatore si tende a volte a eccedere nella critica esagerare con un certo punto Pioli che fino a qualche mese fa sembrava veramente uno che non avesse mai allenato una partita in Serie A che non si sa cosa ci facesse che era un cretino che tutti dovevano spiegargli come si allenava che doveva arrivare chiunque al suo posto eccetera eccetera e la stessa cosa sta succedendo adesso con Allegri perché Allegri sta facendo i disastri però non è che ora è uno che non capisce nulla cioè perché poi si estremizza e lo stesso discorso valeva per Mancini negli ultimi anni della nazionale eccetera eccetera perché io poi mi trovo sempre a difendere queste queste figure qui perché secondo me serve un po' di equilibrio nelle analisi e nelle nelle valutazioni poi se tu mi dici ti piace Murigno cioè tu sei il presidente di una squadra prendi Murigno per per un progetto eh no prendo tutta la vita un altro allenatore cioè io sono un italianiano io sono un Tiago Mottiano a quello mi ricordo ok mi piace quel tipo di roba lì però poi questo non mi impedisce di rivalutare una stagione in cui fai due finali consecutive cioè in due anni fai due finali europee consecutive di coppa europea consecutive per la Roma e per la storia della Roma questo sarà ricordato comunque quando io leggo sono stati buttati due anni io esco pazzo perché dico veramente cioè non riesco a comprendere poi sul discorso crash la valorizzazione atteggiamento comunicazione possiamo essere d'accordo anzi siamo d'accordo ehm però non esageriamo su questa roba qui è anche quel tipo di comunicazione che funziona quando le cose vanno bene e che non funziona quando le cose vanno bene certo certo questo